Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'idea del video di oggi dico subito che non è mia ma di una ragazza che seguo qui su youtube che si chiama Alessandro e saluto, ciao Ale! e praticamente mi truccherò con i preferiti degli altri youtuber, quindi dei ragazzi, delle ragazze che seguo personalmente io che trattano principalmente di makeup. Non ho comprato nessun prodotto quindi ho dovuto guardare bene tutti i video a parte che li avevo già visti. Ho riguardato i loro video dei preferiti del 2019 e ho trovato appunto alcuni prodotti che io ho nella mia makeup collection e sono anche i loro preferiti e quindi oggi farò una full face con questi prodotti qua Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto e magari anche un commento per farmi sapere cosa ne pensate del video e ricordatevi anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e adesso possiamo iniziare Io ho già messo la crema viso, quindi partiamo col primo prodotto che è il fondotinta Stay Naked di Urban Decay nell'ultimo video che ho fatto avete visto la recensione di questo prodotto e questo qui è il preferito di Basic Gaia, Erichiova e Lady Glow Quindi addirittura tre persone ce l'hanno tra i preferiti e io gli do ragione e anche a me sta piacendo molto come fondotinta quindi vado subito a metterlo con una sfugnetta bagnetta Invece come correttore tra i correttori che ho io nessuno era tra i preferiti degli altri influencer quindi utilizzerò il mio preferito, quello di Mulac Infatti inizialmente non volevo fare questo video perché ho detto ma io non ho tantissimi prodotti, li pongo di interno a metto ognuno due ad esempio con i correttori lo stesso, pochissimi ma alla fine solo qualche prodotto non l'ho trovato Anche la cifra che uso io, ovvero questa qua di Essela Brighten Up nel colore Baba Banana Non è la preferita di nessuno, quindi utilizzerò questa e vi anticipo anche Pure prodotti per sopracciglia non ho trovato nessuno che abbia i miei stessi prodotti quindi utilizzerò il mio solito brow pot di Vabla per la colorazione Netto insieme al Duraline di Blot Prima di fare le sopracciglia utilizzo un po' di primer occhi, questo qua è quello di Kiko Fatta le sopracciglia le fissi con il Control Freak di NYX Anche questo non è un preferito di nessuno, è il mio preferito di El Colore Passiamo al bronzer E con il mio grande stupore, pensavo anche questo prodotto di non trovarlo in nessun video dei preferiti Ma Dily Kika ha citato questo bronzer qui di Makeup Revolution che io ho da tantissimo tempo Infatti il video di Dily Kika era più che altro i suoi preferiti del 2019 ovvero che ha usato durante il 2019 ma non prodotti che sono entrati in commercio proprio in quell'anno Invece penso che più o meno tutti gli altri youtuber abbiano citato prodotti usciti nel 2019 che hanno usato in quest'anno Comunque, grazie a lei posso utilizzare questo bronzer e in realtà anche l'illuminante che come sapete ho travasato in questo bottino qui perché si era rotto quindi utilizzo il bronzer E poi metto anche l'illuminante che è sempre di Makeup Revolution anzi la palette si chiama High Heart Makeup Bronze & Glow Guardate quanto è luce a fare Stravissono per se prima gli illuminanti del blush Volevo aspettare a mettere il blush e adesso vi faccio vedere perché Il blush è sempre un preferito di Dily Kika ed è sempre di Makeup Revolution ed è questo qui In realtà Dily Kika ne ha due preferiti e nessuno di due è questo colore Ora mi spiego anche il perché Questo colore qui è un lilla praticamente è un colore freddo e non mi sta bene E poi nel caso metterò sopra un altro mio blush è praticamente grigio si vede subito Mi fa la guancia grigia non è possibile No no ho proprio topato con il colore Sembra che mi hanno dato un pugno e ho un livido atroce Ora possiamo passare agli occhi e abbiamo tantissime palette ce ne sono diverse che io ho e che sono preferite degli youtubers tra cui la Dreamy 2 di Nabla che è appunto la preferita di Mr. Daniel la Vintage Vibes che è la preferita di Base Gaia la Cutie Palette Coral preferita di The Lady iconica preferita di Dily Kika anche se appunto come vedete prima è uscita nel 2018 non nel 2019 e oggi utilizzerò la Vintage Vibes e la Dreamy 2 non so ancora bene che look farò come sempre io volevo fare un look caldo anche perché dopo ho un rossetto appunto caldo quindi deve starci bene con il rossetto e infatti questo blush non si stava perdente bene sicuramente lo sostituirò dopo pazienza ok pennello da sfumatura ampio e come primo colore utilizzo BTF della Vintage Vibes e lo piazzo qui lo uso come colore di transizione prendo un altro pennello da sfumatura un po' più piccolino e utilizzo il New Past stavolta della Dreamy 2 che secondo me ci sta benissimo con BTF e lo metto qui sotto perché sembra grigio dovrebbe essere tipo rossiccio ma mi temi che avevo il pennello sporco ma io non ho avuto idea neanche di grigio lo metto un po' qui anche nell'angolo esterno su tutta la palpebra metterò Liberty di Namla e lo metto col dito stupendo questo ora e con un pennellino definisco i bordi nell'angolo interno utilizzo Tofu Ball stavolta della Vintage Vibes nella rim inferiore inizio sfumando E.T. della Vintage Vibes io vorrei provare a mettere Cherry Hill qui sotto che è il fucsia della Vintage Vibes bellissimo dai è carino ok adesso io farei l'altro occhio e torno ecco ho terminato di mettere tutti gli ombretti dai è carino il look che è uscito fuori ok continuiamo con gli occhi e ci sono delle matite occhi preferite di Viz Gaia che sono le matite di Mulac She e Shiva tutte queste qui in realtà non sono uscite nel 2019 queste ma se non sbaglio fino al 2018 comunque utilizzerò la nera qui sopra dentro e invece quella chiara la utilizzerò sotto bene arriviamo al momento del mascara allora praticamente il mascara preferito di The Lady è il Black Mamba di Mulac che a me invece non piace a lei piace perché lei ha le ciglia lunghissime di suo quindi non le serve l'allungamento e infatti questo qui non allunga per niente volumizza però a me rende le ciglia molto molto tozze invece poi c'è il preferito di Melissa che è questo che ovviamente è anche il mio preferito è il Lush Princess di Essence quindi diciamo che è questo lo metterò nelle ciglia superiori e questo nelle ciglia inferiori ho trovato il compromesso ok nelle ciglia inferiori mettiamo il Black Mamba che qui non so neanche come metterlo perché ha lo scovrino gigante e non vedo nulla cioè lo metto qui davanti non vedo se lo sto mettendo non posso poggiarlo troppo se non mi sporco provo a metterlo un po' così di punta ok basta mascara ho fatto ho messo il terrore di mettere questa mascara ok adesso io aggiusterei la situazione blush perché si vede troppo questa macchia viola con questo trucco caldo quindi non vogliatemene ma utilizzo of course di Mulac siamo arrivati ai prodotti labbra è il preferito sia di Gaia che di The Lady è questo prodotto qua di NYX il NYX Lingerie Push Up io ce l'ho nella colorazione exotic adesso non mi ricordo le loro colorazioni preferite quali fossero di Gaia era sicuramente un nude più chiaro e anche a me piace molto questo prodotto bellissimo questo colore e anche l'ha resa mi piace molto però non rimarremo opache ancora per molto perché l'ultimo prodotto è il gloss di Fenty Beauty che ancora non vi avevo fatto vedere perché ce l'ho da pochissimo e questo è il gloss bomb della colorazione Fenty Glow ed è il preferito sia di Gaia che di Mr. Daniel e quindi lo mettiamo sopra allora non ha tantissimi brillantini a mio parere questo perlomeno questa colorazione qui perché secondo me altre colorazioni hanno più brillantini però è molto confortevole non è fiscicoso è idratante lo tengo con piacere lo uso sia da solo che sopra i rossetti da solo però contorno le labbra perché è praticamente trasparente sì in duria dovrebbe avere un color carne color delle mie labbra quindi diciamo che definisco prima le labbra con la matita una matita nude e poi metto questo gloss ecco qui questo è il look realizzato con i preferiti dei beauty influencer che io seguo mi piace molto vabbè lo trucco che è stupendo questo dorato qui della drill 2 spaziale e mi piace molto anche il contrasto con il fucsia che effettivamente un po' richiama il blush che tanto ho odiato però un po' richiama il fucsia che ho messo sotto l'occhio dai abbiamo trovato un qualcosa per amare questo blush molto rotto bene io vi saluto qui di nuovo vi ricordo di iscrivervi al mio canale lasciate un like al video e commentatelo pure così mi fate sapere cosa ne pensate seguitemi anche sulla mia pagina instagram ah vi lascio anche con in info box il video di alessandra la ragazza che vi ho detto inizio video che ha fatto questo video per prima da cui ho preso spunto e niente io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao